Su proposta degli assessori regionali allo sport e alle attività produttive Mastro Simone e Restaino è stato adottato il programma regionale triennale 2011-2013 dello sport. L'esecutivo ha preimpegnato per gli interventi sul bilancio di previsione 2011 4 milioni e 160 mila euro destinatari province, comuni, enti locali e territoriali, il CONI, le associazioni sportive private. Il programma triennale 2011-2013 per lo sviluppo dello sport rappresenta la base di riferimento per gli interventi e le azioni regionali di promozione, sostegno e diffusione della pratica sportiva. Il documento di programmazione 2011-2013 si caratterizza sia per la continuità con le politiche di intervento che negli ultimi anni hanno prodotto risultati significativi in ambito sportivo sia per l'innovazione in termini di contenuti e di metodologia di programmazione. Tra le finalità del piano, ha commentato l'assessore allo sport Rosa Mastro Simone, consentire al maggior numero dei cittadini l'accesso alle attività motorie, aumentare la presenza femminile e diffondere la cultura dell'attività fisica che rifiuti l'uso di sostanze illecite.